buonasera a tutti e a tutte ben trovati a questo terzo appuntamento del ciclo di seminari su vulnerabilità il conoscimento responsabilità un ciclo di seminari che fa parte di un percorso di cerchio della fondazione lanza che appunto vuole approfondire il questo tema della vulnerabilità questo incontro viene dopo aver messo a fuoco più la riflessione sul versante della dimensione fondativa e la volta scorsa della dimensione legata alla bioetica in particolare alla cura dei sistemi di cura quest'oggi invece vorremmo mettere a fuoco il tema della vulnerabilità legato come dire a una dimensione più ampia una dimensione forse inedita che è quella di una vulnerabilità che ci chiama di fronte alla crisi socio climatica ambientale di fronte a questa crisi policrisi come viene chiamata siamo un po tutti vulnerabili ecco in questa cornice in cui abbiamo di fronte al cambiamento climatico abbiamo inquinamento crescente abbiamo petta di biodiversità fenomeni che non riguardano più semplicemente una area geografica o una comunità ma interessano l'ecosistema terra cioè interessano in qualche modo tutto il insieme delle reti della vita e così come non una comunità ma l'intera famiglia umana allora è chiaro che tema vulnerabilità in questo contesto si interroga e ci interroga in quanto non solo come individui e come comunità umana ma ci interroga per quanto vuole la salute dell'intero pianeta e tutti i suoi abitanti è un approccio come dire che ci chiama a ripensare a cambiare lo sguardo rispetto a un'espressione di papa francesco lo sguardo rispetto a un problema o comunque una questione una sfida che abbiamo di fronte è quella di costruire un percorso una società che sia sostenibile nel tempo e nello spazio e proveremo ad affrontare questo tema con avendo come temi ovviamente sono molto ampi e molto complessi ma abbiamo deciso di fare un focus specifico sul tema appunto di vulnerabilità e degrado ambientale avendo come approfondimento oggetto il tema della paese di biodiversità che è una delle grandi emergenze eco sociali a livello globale poi i relatori ce lo presenteranno e dall'altro però anche come il tema della paese di diversità ma anche il tema dell'inquinamento dell'ambito climatico hanno delle conseguenze dirette per la vita e l'assoluto delle persone delle comunità con questi due appro con questi due sguardi vorremmo provare ad approfondire questo questa dimensione che ha poi come come traccia come obiettivo quello di evidenziare le semplici queste correlazioni che ci sono tra il il i sistemi umani e i sistemi naturali per fare queste riflessioni abbiamo invitato due esperti dei temi abbiamo invitato marco marchetti è docente di gestione conservazione forestale eh presso l'università del molise fino a questa settimana la prossima settimana invece in cominciare a prendere servizio presso la sapienza di roma eh sempre su queste aree tematiche e eh paolo vines che è docente di epidemiologia ambientale presso l'imperial college di londra entrambi sono come dire dei eh esperti hanno tantissime pubblicazioni su questi temi sui loro temi specifici sono membri di comitati internazionali e nazionali sono queste due figure che ci credo eh potranno aiutare a comprendere e anche a svelare quindi a riconoscere questa appunto questa dimensione di interdipendenza sempre che sia tra eh sistemi sociali e sistemi naturali io mi fremerei qui e lascerei la parola al primordatore a Marco Marchetti che ci introduce sul tema appunto del rapporto tra vulnerabilità e eh perita di biodiversità prego Marco mi sentite buongiorno buonasera anzi sì Marco ti sentiamo benissimo spero si veda anche tutto lo schermo sì benissimo quasi vediamo un po' se funziona ok grazie grazie dell'invito grazie alla fondazione Lanza per questo bel ciclo di i racconti e di tentativi di approfondimento su una cosa su cui un tema su cui siamo di cui siamo forse poco consapevoli anche se molto informati e bombardati e provo a dire qualcosa appunto sulla quello che è il rapporto nel tra l'uomo e il riconoscimento delle proprie vulnerabilità nei sistemi interconnessi con con la natura e partiamo da questo che probabilmente qualcuno avrà già visto il vecchio racconto ormai del 2018 in cui John Rockstrom che individuò i limiti e i confini del pianeta ci ha proposto anche con questa interessante animazione alcuni dei possibili punti di non ritorno del pianeta rispetto alla sua vulnerabilità ma soprattutto ovviamente rispetto alla specie umana che vive sul pianeta e sulla biosfera vedete che sono rappresentati tanti momenti significativi dalla circolazione termoialina alla modifica dei monsoni alla deglaciazione alla e finisce pensando al tema importantissimo di quel luogo simbolico e anche teologico che è il bacino del rio delle amazzoni questi che sono stati definiti punti di non ritorno lo sono proprio perché collegati a una serie di elementi che sappiamo avere uno spazio di sicurezza al di fuori del quale è proprio la vulnerabilità rispetto alle comunità umane che viene fortemente aumentata e quindi le comunità umane oltre a quelle di tante altre specie di ecosistemi vengono fortemente minacciate qualcuno sa bene che probabilmente non abbiamo appunto consapevolezza di quanto per esempio la crisi climatica nonostante il suo altissimo diciamo voltaggio mediatico e nonostante venga presa un po a simbolo della crisi ecologica generale sia probabilmente qualcosa che è molto superiore a tutte le altre crisi che abbiamo attraversato e che ci hanno resi più vulnerabili compresa la pandemia ma compreso lo stesso debito pubblico di cui a volte veniamo messi a conoscenza come uno dei problemi grossi per le future generazioni se non per le nostre economie le nostre società soprattutto nei suoi strati più deboli in realtà probabilmente la crisi ecologica sia climatica che legata alla sesta estinzione di massa che stiamo vivendo e che abbiamo provocato come specie umana sulla terra diciamo dal dal grosso dal dopo la rivoluzione industriale mettono in crisi e fanno crescere la vulnerabilità per alcune alcuni elementi della biosfera che conosciamo anche fino a un certo punto ma per i quali i modelli che abbiamo messo a punto come comunità scientifica a livello globale direi in questi ultimi decenni ci raccontano di spazi che si stanno erodendo rispetto al rischio di collasso di alcuni elementi funzionali dal punto di vista ecologico e va detto anche tra le cause che dobbiamo riconoscere che il grosso di questa operazione di messa in crisi della funzionalità ecologica della biosfera è legata anche all'urbanesimo all'urbanizzazione sono le città le principali vittime i principali carnefici del consumo di energia della produzione di rifiuti del spreco di cibo dell'aumento delle temperature e dei gas clim alteranti nella biosfera ma soprattutto forse oggi rispetto al tema del riconoscimento mi permettevo di provocare il ragionamento e l'approfondimento pensando a quella che è l'urbanizzazione soprattutto delle menti noi più viviamo in città più viviamo stili di vita urbani per meglio dire e più ci scolleghiamo da ritmi della natura dal collegamento tra l'uomo e la terra siamo sempre meno parte della natura anche se di questo siamo coscienti diciamo da fine settecento quando schiller ci diceva che noi i nostri avi vivevano e sentivano naturalmente noi invece sentiamo e cerchiamo la natura e questo è una differenza molto importante poi abbiamo una serie di questi tipping point di questi elementi di non ritorno che ci dicono che i rischi sono molto forti e di questo forse abbiamo se non consapevolezza informazione sappiamo del tema grosso della dell'innalzamento del livello del mare e delle sue conseguenze potenziali esistono anche bellissimi volumi divulgativi che raccontano di cosa succederà nell'antropocene quando il mare sarà salito di mezzo metro 65 centimetri come si dice sulla costa atlantica degli stati uniti o tante altre simulazioni e modelli a livello macro regionale ma certo se queste previsioni non si possono neanche quantificare vista anche l'inaffidabilità ancora dei modelli matematici e che abbiamo a disposizione certo sappiamo dei dati di fatto sono realissimi sappiamo che gli ultimi otto anni sono stati più caldi da quando misuriamo sappiamo che oggi c'è che gli ultimi quattro anni erano anche soggetti al ciclo della negna cioè un fenomeno che portava al raffreddimento della temperatura media del pianeta grazie alla risalita di acque fredde dal pacifico oggi invece sappiamo che siamo nel ciclo di el nino maschile che dovrebbe sicuramente durare per diversi mesi ancora e quindi come stiamo assistendo peraltro un po ovunque aumentare la temperatura media del pianeta sappiamo quindi e ci viene detto pensate alla affermazione che ha fatto gutierrez o quello che ha detto il papa forse gli unici due che parlano in maniera molto chiara al pianeta sul fatto che ormai non è più neanche sul riscaldamento ma in alcune situazioni possiamo parlare della realtà della biosfera sia per i suoli che per gli oceani che per le foreste che per evidentissimo il il tema del ghiaccio sia nei continenti artico nel continente antartico e nel nel polo nord e tutto quello che lo circonda sia sulle montagne del del mondo qui poi dobbiamo renderci conto che qualcuno ce l'ha raccontata queste crisi e ci ha raccontato il perché abbiamo questa situazione però che forse ancora e tutte le cop le conferenze delle parti sia sul cambiamento climatica che sulla biodiversità che sullo sviluppo sostenibili ci confermano che ancora gli interessi puramente economici del breve periodo non ci aiutano a decidere di fermare l'aumento della produzione di inquinamento di cui sentiremo meglio parlare dopo dal collega vines che produce il cambio climatico e che si collega al resto del della crisi ecologica che ben conosciamo allora mi ha abbastanza impressionato a vedere come anche quest'anno a davos world economic forum è stato presentato il solito rapporto sui rischi globali e vedete che come da anni ormai il rischio sul medio termine la percezione del rischio sul brevissimo termine è sempre un po mista tra vedete la misi la disinformazione e le mistificazioni certamente gli eventi estremi o la polarizzazione sociale con le diseguaglianze eccetera se guardiamo sul lungo termine a dieci anni abbiamo sempre la crisi ecologica ambientale come i principali tra i fattori di rischio principali nel immaginare quali sono le minacce per il sistema economico perché di questo si occupa soprattutto davos e il world economic forum e sono in questi ambiti che si comincia a parlare di unica speranza l'abbattimento delle missioni per evitare scenari catastrofici e guardando a questo viene in mente come in effetti invece finché tutto ciò è in mano a chi è nella società non solo del benessere ma dell'opulenza probabilmente come dice salmo 48 l'uomo della prosperità non comprende ed è proprio questa mancanza di comprensione di piena consapevolezza e acquisizione di responsabilità per questo è molto interessante il titolo e lo svolgimento di questi seminari che invece dovrebbe darci dar corpo alle nostre azioni nuove è uscito l'anno scorso appena stato commentato per esempio da molte comunità ha dato sì questo grazioso poetico commovente film che forse qualcuno avrà visto utama sulla crisi degli altipiani delle ande la crisi idrica sugli altipiani delle ande che ha costretto anche lì popolazioni indigene andine a migrare nelle favelas e nelle bindoville delle grandi città per il prosciugamento delle sorgenti d'acqua delle risorse idriche raccontando di realtà di fragilità che vanno a sommarsi l'una all'altra ma che colpiscono sempre di più anche se le colpe non sono dove soprattutto i contadini gli abitanti gli indigeni i poveri vivono ma sono altrove colpisce tutti quanti colpisce la collettività globale colpisce i singoli è un film largamente consigliato se avrete occasione che parla proprio di questo tema della vulnerabilità legata al degrado ambientale e del conflitto tra generazioni nella decisione però abbiamo anche cose recentissime che ci raccontano attualmente molto più vicine a noi prima di arrivare all'italia vediamo cosa sta succedendo in questi anni mesi ultime settimane perché abbiamo notizie di ultime settimane della penisola iberica sapete prima dell'Andalusia poi la Catalogna stanno vivendo una siccità che è molto peggiore di quella che abbiamo visto noi nel 2003 nel 2017 nel 2022 forse la peggiore si dice da 1200 anni soprattutto abbiamo situazioni per cui se a Barcellona piove da 40 mesi abbiamo forse una prova che una città grande una metropoli che si era preparata che da sempre convive col problema dell'acqua ci dice che forse non ci possiamo adattare a tutto è una domanda su cui rispetto al tema del riconoscimento della vulnerabilità e dei rischi è bene che ci poniamo certo anche noi recentemente abbiamo avuto siccità in passato a cui avremmo abbiamo dovuto far fronte in maniera non preparata come società civile e soprattutto società urbana del nostro paese stesso e dobbiamo stare attenti a verificare se l'adattamento passa di nuovo attraverso il paradigma tecnocratico e l'esempio è molto semplice per continuare a esportare le grandi quantità di olio che produce la penisola eberica si pensa di fare pozzi che vadano artesiane vadano non più a 100 200 ma a 500 600 metri in profondità arrivando all'acqua fossile quindi aumentando i costi energetici per l'estrazione o comunque l'impatto ambientale per continuare a produrre in questa maniera oppure a pensare di portare l'acqua con le navi da luoghi dove ci sia dove dove c'è disponibilità si parla delle alpi da marsiglia dalla francia da genova fino in penisola iberica questo non è un tema lontano dalle nostre realtà italiane a cui cerco di avvicinarmi e pensate pensiamo che i primi dati di questi due mesi gennaio febbraio sperando che la settimana prossima davvero piova e nevichi il primo metodo di suolo in italia che sono indicatori importanti dal punto di vista della capacità di campo della capacità idrica il serbatoio importantissimo che è il suolo quella piccolissima pellicola che ricopre le terre emerse che rappresenta l'interfaccia con tutta la vita con tutto il sistema biologico ci dice che in questo momento siamo più o meno nella in una posizione simile a quella del 2023 in cui furono soltanto le piogge di maggio e giugno a salvarci anzi a fare degli altri danni come vedremo mentre invece con la sola differenza che oggi abbiamo la situazione inversa tra nord e sud e abbiamo la sicilia che è già in grande difficoltà quindi il tema dell'acqua è un tema importantissimo e noi lo vediamo come paese che non ha mai avuto problemi di acqua che ha avuto sempre o che conosce bene la realtà mediterranea e la sua capacità di gestire l'acqua ma che non aveva mai avuto fenomeni di deglaciazione così rapidi così non solo evidenti ma così veloci da non rendersene neanche conto oppure fenomeni per i quali oggi vediamo anche le nostre alte quote e lo scelimento del permafrost e sappiamo che il permafrost il suolo perennemente ghiacciato sotto una certa piccola superficie è un tema che riguarda tutta tutto l'emisfero boreale gran parte tutta la parte boreale del nostro emisfero nord e la parte australe per esempio della sud america dove il tema della scioglimento del permafrost sapete si porta appresso anche ulteriori grandi problematiche di emissione di gas serra metano tra tutti ma certo dal punto di vista della vulnerabilità noi assistiamo a fenomeni che nelle nostre montagne che sono sentinelle del cambiamento sia di biodiversità che climatico e della crisi climatica soprattutto abbiamo processi che accelerano in maniera incredibile anche questa inaspettata come velocità il nostro comitato glaciologico ci dice che ormai ha la funzione di curatore fallimentare del sistema dei ghiacciai italiani il club alpino italiano è alle prese con la stabilità strutturale di tanti rifugi e tanti bivacchi in giro per le alpi e non solo perché perché c'è del terreno tutte situazioni su cui non avremmo mai pensato di dover operare quantomeno non così capillarmente dappertutto e così velocemente l'altra cosa di cui dobbiamo avere coscienza e contenza è che invece ridurre vulnerabilità e utilizzare strategie di protezione del clima e della biodiversità potrebbero portarci a aumentare il nostro livello di benessere e crediamo sempre di più anche ad aumentare il valore economico di alcune azioni questo è un punto molto importante abbiamo industrie che sono destinate a finire più o meno rapidamente sappiamo una di queste il fossile che cerca di agitarsi per cercare di speculare più possibile sul breve periodo ma tornando un esempio di questi giorni l'industria dello sci alpino è un'altra industria che sappiamo è destinata a morire a finire nel suo nel suo percorso di valore economico deve in qualche maniera cambiare modello e speriamo lo faccia prima possibile per evitare ulteriori danni e poi e ci avviciniamo un po al discorso anche specifico sul valore della vulnerabilità dei sistemi ecologici abbiamo avuto un sacco di eventi estremi nel nostro paese recentemente abbiamo avuto un sacco di eventi estremi sia in termini di variazioni di temperatura siccità e grandi ondate di calore sia in termini di modifiche delle precipitazioni tanto è vero che cominciamo ad assistere a fenomeni di mobilità soprattutto per chi può permetterselo mobilità interna magari periodica ma sempre più allungata per verso quelle aree interne dalle città vittime importanti delle ondate di calore estive verso quelle aree interne che ancora possono costituire luoghi di adattamento se non veri e propri rifugi climatici questo in un paese proiettato verso l'africa e come vedete con l'attitudine importantissime che raccontano come l'aumento di siccità anche a parità di quantità di precipitazione ma forte variazione del numero di giorni e della modalità di precipitazioni da punto di vista della pioggia quindi e della neve ci raccontano che sono segnali che quanto meno da dieci anni sono evidentissime perché il 2017 ci aveva portato a fare le stesse considerazioni che abbiamo fatto nel 2022 la peggiore siccità da quando disponiamo dei dati e per il 2023 che non solo ha avuto lo stesso andamento e quest'anno si ripropone uguale ma che ha avuto anche in più quella incredibile manifestazione che sicuramente ricordiamo di cui ancora discutiamo e non abbiamo ancora perfettamente preso le misure del del danno e che è stata l'alluvione in emilia romagna di maggio con quei due grandi eventi che sono stati episodi alluvionali che ricordo hanno portato per esempio alla scomparsa spalizione chiusura di decine di aziende frutticole da uno dei distretti più importanti per la produzione frutticola d'europa tanto che qualcuno ci dice che oggi noi cominceremo a importare anche la frutta questo lo dico perché il momento dal punto di vista dell'agricoltura del momento attuale è particolarmente significativo ma non è che lì non avessimo contezza di queste situazioni ci sono dei casi emblematici pensate rimini rispetto a riccione o rispetto a sant'arcangelo a pochi chilometri di distanza aveva lavorato sull'adattamento aveva lavorato sulla dare spazio ai fiumi ai canali rimini non si è allagata non ha visto rompere gli argini dei fiumi e si è salvata e gli altri paesi gli altri cittadini e città no quindi significativo il valore dell'adattamento e il valore della consapevolezza dopo il riconoscimento alla vulnerabilità e questo dicevo è molto significativo soprattutto per il tema agricolo tema agricolo che vede già una situazione molto difficile perché il clima provoca riduzione di promozione di produzione nel nostro paese in tutta l'unione europea che si sommano alle modifiche geopolitiche da un lato ma anche sociali ed economiche strutturali perché per 30 anni abbiamo tenuto la PAC la produzione agricola come caposaldo dei valori dell'unione europea ma soprattutto finendo per finanziare soltanto le aziende più grandi e con una distorsione dei sussidi che non ha consentito né riforme agrarie né l'acquisizione di consapevolezza sul valore del cibo tanto è vero che la protesta in questi giorni degli agricoltori avete visto si indirizza addirittura contro alcune scelte di valore ecologico ambientale significative da parte dell'unione forse un po precoci ma certamente significative invece che concentrarsi sul valore del valore del cibo e di chi lo produce poche sono state le voci che hanno detto non prendiamocela con l'ambiente e con le scelte ambientali prendiamoci con il cibo che è sotto costo che vede i valori aggiunti per i produttori della tecnologia digitali che sono tutti valori aggiunti e margini di contribuzione delle aziende che se non sono del 50 per cento non vanno bene e invece per i produttori agricoli spesso assistiamo a vendite sotto costo dei prodotti con distorsioni e contraddizioni assurde perché questa immagine ha sempre fatto impressione vedete che razza di trattori girano adesso le nostre campagne tutti presi con i sussidi sovradimensionati anche rispetto alle esigenze della nostra agricoltura tante volte senza generalizzare però con una realtà di contraddizione intrinseca importante che ci porta a dire che quella intensificazione che potremo avere anche nel nostro paese per arrivare alla sicurezza alla sovranità in Italia arrivare per avvicinarci un po' di più alla sicurezza alla sovranità alimentari spesso si scontrano con questa capacità di semplificare di passare alle monoculture a soltanto sistemi industriali di agrobusiness che invece alla fine non riusciamo neanche a portare avanti dal punto di vista del valore e del reddito quindi il tema importante è quello forse dei conflitti per la terra questo è il vero la vera origine di tutte le nostre vulnerabilità e della unica grande crisi socio ecologica che viviamo quella della che porta alle diseguaglianze nelle forme più diverse per lottare tra produzioni di energia rinnovabile per esempio produzione di cibo tra tra mantenimento dei sistemi naturali e produzione di cibo ma anche nel nostro ambiente nel nostro il benessere a quelle contrazioni tra natura e conservazione delle specie e conservazione degli individui no importante per noi sarebbe pensare che siamo riusciti in 70 anni a conservare la specie il lupo e a farlo diffondere in tutta Italia eh da da un piccolo nucleo che era rimasto e oggi la stessa cosa si può fare per l'orso ci attacchiamo spesso alla difesa di un esemplare magari problematico perdendo di vista perché abbiamo perso di vista il collegamento con l'ecologia per l'appunto e il punto più difficile il punto più drammatico di questa perdita di connessione riguarda invece proprio le foreste la deforestazione globale e le sue contraddizioni anche per i paesi i paesi del benessere i paesi ri dai tempi della pandemia qualcuno aveva iniziato a dire che il degrado forestale era una fortissima minaccia c'era stata una forte acquisizione di consapevolezza pensiamo soltanto al tema dello spillover quindi salto di salto di specie del degli agenti pandemi però le foreste sono un po un luogo simbolo della sesta estensione di massa perché sono gli ambiti che tengono che contengono più specie non ne conosciamo neanche quante ce ne stiamo stimiamo otto milioni di specie presenti sulla biosfera tantissime negli ambienti forestali ne conosciamo due milioni di specie più o meno e però vediamo nei grafici qua sotto come al sul pianeta terra man mano che sono salite il numero di abitanti abbiamo perso continuiamo a perdere copertura forestale anche se non è così dappertutto anzi il caso dell'italia e dell'europa ormai l'italia partita per prima incontro tendenza vede crescere ha visto crescere la propria popolazione per tanti decenni e abbandonare l'agricoltura lasciando spazio di nuovo al bosco però certamente un legame fortissimo c'è tra luoghi su cui i punti di non ritorno possono essere davvero catastrofici senza essere catastrofisti ma possono essere molto pericolosi per il pianeta pensiamo alla savanizzazione della foresta amazzonica e perché savanizzazione fa diventare molto fragili ambienti così grandi 9 milioni di chilometri quadrati di bosco pluviale tropicale soprattutto per produrre cibo ma per produrre cibo non tanto per gli ambienti le comunità locali produrre cibo da esportazione a cominciare dalla soia con cui vengono fatti i mangimi per la stragrande maggioranza della base carnivora dell'alimentazione media sul pianeta di chi ha come status symbol non soltanto noi europei nord americani ma anche cinesi e indiani e di cui punta a un tipo di alimentazione che è basata sullo stesso approccio che abbiamo avuto noi quindi finché come dice gai giro come ha scritto magistralmente l'anno scorso su civiltà cattolica quindi finché i profitti attesi dalla deforestazione superano quelli che si crede di poter stimare utili e ricavabili rallentamento dell'escalamento globale l'amazzonia può bruciare lo vogliamo e in questi giorni in queste settimane assistiamo anche lì alla peggior crisi idrica che mai sia stata vista nel bacino del rio dell'amazzoni con fiumi in secca spaziazione di sorgenti moria di milioni di specie peraltro queste connessioni possiamo vedere anche da noi non soltanto nell'agricoltura ma le abbiamo viste anche nei nostri ambienti forestali noi sappiamo come dicevo prima l'italia è un paese che è diventato negli ultimi 40 anni forestale senza sapere di esserlo abbiamo 12 milioni di ettari di bosco il 40 per cento del territorio come non avevamo dal medioevo però anche i nostri boschi sono soggetti a fortissimi disturbi viviamo la contraddizione di essere un paese importatore per l'80 per cento del proprio fa bisogno di legname pensate 80 per cento in gran parte poi tutto reesportato e abbandoniamo anche la coltivazione abbiamo abbandonato la coltivazione delle nostre foreste lasciandole preda dei disturbi legati a questi forti cambiamenti due esempi e mi avvio a conclusione il tema degli incendi sempre conosciuto ma mai visto con le modalità con le quali si presenta adesso pensate gli incendi autunno invernali della val di susa del piemonte di tutte le alpi occidentali e proprio centrali del 2017 fenomeno che sappiamo è se abbiamo visto ripetersi sistematicamente quella ma che ha raggiunto nel 2017 un culmine fortissimo in termini di estensione fino a quasi se più di 7.000 ettari e poi gli incendi famosi di interfaccia famosi ancora non nella non nella consapevolezza dell'operazione pubblica ma tagli addetti ai lavori sì perché la modifica di temperatura precipitazioni condizioni non soltanto logiche ha sì che oggi siano molto forti ma soprattutto sempre più vicino agli insediamenti incendi cosiddetti di interfaccia urbano-rurale pensate a quello di cui si è parlato nella settimana Marco ti abbiamo perso abbiamo perso Marco i marchetti vediamo se riusciamo a recuperarlo ora è caduta anche la linea vediamo se si riesce a ricollegarsi mi sentite adesso sì Marco ti sentiamo era caduto sarà bloccato hai avuto un calo di linea scusa mi sto arrivando alla conclusione dove eravate arrivati eravamo arrivati eravamo arrivati qui no va al paeso quella prima quella prima eccolo qua grazie vi ringrazio dicevo situazione che sta davvero di cui abbiamo consapevolezza conoscenza ma che sappiamo essere in forte peggioramento il tema degli incendi riguarda tutto il mondo ed è un tema che inutile forse dirlo ma che si collega al circolo vizioso di riuscire a liberare immense quantità di emissioni di gas a serra che faticosamente nei secoli si erano accumulate nelle foreste e nei suoli forestali questo per sintetizzare l'altro tema nuovissimo almeno per l'Italia è quello delle tempeste tempeste questa è la valdassa in alto piano di Esiago questo è il lago di Carezza il bosco intorno al lago di Carezza sul Latemare in alto Adige sapete la tempesta avaia che al nord ne è più consapevole a Roma e in giro per il cento sud c'è gente che non l'ha neanche mai sentita nominare cose che a me sembrano quasi impossibili ma abbiamo avuto per la prima volta nel nostro paese dei grandissimi immensi schianti da vento che hanno coperto 40.000 ettari di boschi abbattuto 40.000 ettari di boschi quelle foreste iconiche delle Alpi orientali cento orientali le più belle forse come si può semplicemente dire del nostro paese e che oggi dobbiamo ripensare sia in termini di modalità di coltivazione sia in termini di capacità di resistenza e resilienza perché come sapevamo benissimo dopo l'abbattimento delle foreste anche gli alberi vivi rimasti intorno continuano a morire a causa degli attacchi parassitari e di questo insettino un protagonista che si chiama Bostrico e che sta mangiando e facendo fuori tutti gli abeti rossi delle Dolomiti e di tanta parte delle Alpi orientali ma questo è un tema che noi conosciamo da anni dagli anni 70 essenzialmente si è preso coscienza della diminuzione della biodiversità a causa degli incendi e degli schianti nelle foreste europee con percentuali di superficie percorsa da disturbi che sono fortemente aumentate e che sono strettamente legate sia al cambio climatico che ai cambiamenti di uso del suolo in quel circolo vizioso di polarizzazione tra abbandono e consumo di suolo che come vi dicevo prima per esempio fa sì che gli insediamenti siano sempre più vicini a zone abbandonate e che il fuoco quindi abbia buon gioco sia a ripartire che a comportarsi in modo estremamente pericoloso quindi i disturbi naturali anche sotto il profilo economico provocano miliardi di euro di costi questo se ne sta accorgendo anche la Commissione europea che deve spesso assistere gli stati la Grecia ha chiesto non so quanti milioni di euro soltanto per la stagione degli incendi dell'anno scorso la stessa cosa abbiamo fatto noi per Vaia nel 2019 essendo stata nel 2018 la tempesta ma soprattutto abbiamo una forte riduzione dell'erogazione di quei servizi che chiamiamo ecosistemici e che sono tutti quei servizi di regolazione pensate al ciclo dell'acqua, della protezione di ossigeno, di sequestro del carbonio o di protezione diretta dalle valanghe e dalle frane di tanti centri abitati che in montagna sono importanti e significativi quindi siamo abitanti di un paese vulnerabile come scritto nel concept di questi seminari ed è impensabile immunizzarsi dall'altro e non assumere invece il compito di un sapiente discernimento etico-politico mi è piaciuta molto questa frase perché è proprio quella che ci invita a ricordare la dimensione politica del tutto è connesso di Laudato Si, di Fratelli Tutti, delle Laudate Deum che chiama tutti la responsabilità soprattutto verso i più fragili difesi ma allo stesso modo verso il pianeta e la biosfera e qui dovremmo anche essere capaci di riconoscere che alcune delle azioni intraprese in Europa erano importanti, sono importanti e potenzialmente molto utili in questa lotta alla vulnerabilità o in questa presa di coscienza alla vulnerabilità chissà che a fine 2024 nel Summit per il Futuro che convocheranno le Nazioni Unite che hanno convocato le Nazioni Unite non si riesca un po' a rilanciare il ruolo di apriquista dell'Unione Europea invece che la marcia indietro a cui stiamo assistendo un po' anche in questi giorni per motivi elettorali e questo vale anche al nostro Paese stiamo un po' nonostante cose importanti pensate la riforma costituzionale degli articoli 941 ha introdotto l'equità intergenerazionale e la biodiversità in Costituzione come attenzione, difesa e responsabilità ma oggi stiamo dando agendo parlando di sostenibilità a colpi di insostenibilità perché non abbiamo fatto la legge sul clima è tutto da rivedere il piano nazionale energia integrato, energia e clima che non contiene neanche l'analisi delle vulnerabilità e dei rischi abbiamo sussidi ambientalmente dannosi che aumentano invece che diminuire nel nostro Paese quindi abbiamo politiche che non sono assolutamente ancora coerenti tutto questo non ci deve portare ad essere soltanto percorsi dal pessimismo della ragione la cosa in più che dobbiamo fare con l'ottimismo della volontà e cercando di essere portatori di speranza io credo è quella di provare a parlare anche dell'urgenza forse non dell'emergenza perché l'emergenza crea rassegnazione o catastrofismo crea rassegnazione ma dell'urgenza a me è colpito molto leggere l'antropologo Stephen l'anno scorso che ha chiaramente detto che oggi vincere lentamente potrebbe equivalere a perdere mentre invece ero molto legato e sono ancora molto legato al messaggio di Alex Langer che già nel 93 proponeva di lavorare per il cambiamento ma che la crisi ecologica e l'ecologia il primo nome della pace sarebbe stata portata avanti soltanto se condotta in modo dolce, lento e profondo e socialmente desiderabile ancora questo è un argomento importantissimo di discussione sul riconoscimento e sull'acquisizione di responsabilità vi ringrazio molto per l'attenzione e mi scuso per l'interruzione non so dovuta a che cosa della connessione grazie a Marco Marchetti per questa relazione molto ampia molto completa rispetto a quelle che sono le urgenze e le emergenze legate alla crisi socioambientale e climatica e che ci evidenziano appunto come diciamo all'inizio come la vulnerabilità oggi riguardi tutto il pietro, tutte le famiglie umane potremmo dire la famiglia umana di oggi ma anche quella di domani quindi anche intergenerazionale e quindi ecco abbiamo messo a fuoco come non è solo come la questione ambientale in senso ampio per dire questo cambiamento climatico impattano poi sulla questione idrica sulla questione del cibo impattano poi sulla qualità degli ecosistemi e poi sulla qualità della vita umana ecco questo grazie per questa presentazione ora io passerei subito alla seconda intervento con il professor Paolo Vines come vi dicevo è docente di epidemiologia ambientale presso l'Imperial College di Londra è anche un professor presso il studio italiano di tecnologia a Genova è un esperto di questi temi tra i maggiori esperti italiani ed europei anche lo stile di epidemiologia ambientale a cui abbiamo chiesto appunto di aiutarci anche qui a riflettere sulla connessione tra questa crisi ambientale e gli impatti sulla qualità e sulla salute delle persone prego professor Vines a te la parola grazie comincio a condividere lo schermo vedete lo schermo? sì vedete le mie slide? sì va bene e grazie grazie molto per l'invito io mi concentrerò come dicevi sugli aspetti relativi alla salute e ho anche interpretato il vocabolo vulnerabilità nel senso di vulnerabilità individuale riferendomi in particolare alle disuguaglianze sociali cioè come la crisi ambientale che è una crisi globale impatta sulle disuguaglianze sociali prima di tutto faccio vedere qualche diapositiva che si riferisce alla gravità della crisi globale e della crisi ambientale c'è qualche sovrapposizione rispetto alla bellissima relazione di Marchetti ma molto parziale questa diapositiva io la trovo impressionante fa vedere come nel 2020 con un intervallo di confidenza la massa dei manufatti umani ha superato la biomassa quindi tutto ciò che è di origine antropogenica prodotto dall'uomo che include le costruzioni il materiale della costruzione l'asfalto, i metalli la plastica eccetera tutto questo ha superato in termini di massa complessiva la biomassa quindi l'insieme degli animali delle piante, dei batteri e così via e questo chiaramente fa pensare si parla di cambiamento climatico se ne parla spesso male e per certi versi troppo poco e comunque malamente come diceva giustamente Marchetti e se ne parla perché almeno da 30 anni sappiamo che esiste il cambiamento climatico e che è di origine antropogenica soltanto recentemente abbiamo identificato un altro problema molto grande che è quello della perita di biodiversità la stima è che dal 1970 ad oggi c'è stato un declino del 70% dell'indice di biodiversità che vuol dire varietà di specie di specie animali e vegetali in generale parliamo di erosione del capitale naturale e quindi dei servizi ecosistemici cioè di quei servizi che il capitale naturale fornisce a tutte le specie la specie umana ma anche le altre specie tra i servizi ecosistemici ricordo che non dobbiamo includere soltanto l'acqua o le verdure la frutta ma anche i farmaci perché molti farmaci derivano addirittura dalle foreste tropicali poi sono stati trasformati dall'uomo comunque molte molecole importanti per la nostra sopravvivenza sono fornite nell'ambito dei servizi ecosistemici questo grafico fa vedere il declino della abbondanza delle specie vegetali e animali in particolare animali dove il declino è particolarmente evidente in Asia nell'area del Pacifico in Africa e in America Latina l'altro problema che si affianca a quelli cui ho accennato è l'incremento dell'inquinamento chimico l'incremento dell'immissione nell'ambiente di sostanze chimiche incremento legato in larga parte alle economie emergenti alle grandi economie dell'Asia Cina e India sta di fatto che se guardiamo la produzione globale normalizzata al 2000 quindi partendo dal 2000 c'è stato un incremento enorme di immissioni di sostanze chimiche molte delle quali ben conosciute e conosciute anche per la loro tossicità per esempio il benzene è un ben noto cancerogeno e c'è un aumento degli antibiotici utilizzati ma anche immessi nell'ambiente e un aumento delle plastiche delle microplastiche delle nanoplastiche e così via le dimensioni di questo fenomeno sono tali per cui i nostri strumenti attuali in Europa per esempio la legislazione RIC sono inadeguati perché sono strumenti che valutano una sostanza per volta si tratta di test che impone per esempio la legislazione RIC in Europa basati su studi in vitro su cellule oppure su animali che sono mirati a riconoscere la tossicità delle sostanze chimiche però sostanzialmente ogni sostanza chimica viene valutata isolatamente e questo richiede un tempo molto lungo nonostante questo la legislazione RIC è la più avanzata al mondo ed è stata molto avversata soprattutto dalla industria americana tra i vari fenomeni legati alla crisi ambientale la deforestazione il cambiamento climatico e quindi lo scioglimento dei ghiacci dei poli gli incendi di cui si è parlato la perita di biodiversità c'è anche un fenomeno particolare interessante importante che è quello della migrazione della migrazione delle specie non solo la migrazione umana che è uno dei sottoprodotti della crisi ambientale ma anche la migrazione delle altre specie questo è un esempio se volete curioso che non ha implicazioni per la salute umana ma è sintomatico cioè la trasmissione del virus del cimurro dalle foche alle lontre intorno al polo nord le foche che migrano verso la terraferma delle aree circostanti e trasmettono il virus del cimurro per la prima volta alle lontre questo fenomeno della migrazione delle specie si sta manifestando su una scala molto ampia perché molte specie selvatiche che vivono nelle foreste vedono il loro habitat naturale profondamente modificato quindi hanno meno accesso a cibo per esempio e si trovano costretti a cambiare habitat e a convivere con altre specie con le quali non avevano prima rapporti e quindi questo aumenta le probabilità di spillover spillover di virus trasmessi da una specie all'altra e poi eventualmente alla specie umana ricordo che lo stesso AIDS dovuto al virus HIV è originato da un primitivo primordiale contatto tra scimmie e la specie umana legato all'intrusione da parte della specie umana nelle foreste allora quali sono gli impatti per la salute umana normalmente qui mi riferisco al cambiamento climatico poi dirò qualcosa anche sulla biodiversità ci sono impatti diretti e impatti indiretti quelli diretti li immaginiamo facilmente sono per esempio le alluvioni pensiamo a quello che è successo in Pakistan nel 2022 oppure le ondate di calore in Europa nel 2022 ci sono state 62.000 morti in eccesso a causa dell'ondata di calore di agosto questi fenomeni devo dire sono particolarmente importanti nei paesi a basso reddito specialmente le alluvioni e la siccità che comporta una ridotta produttività dell'agricoltura o vere e proprie carestie i paesi a basso reddito sono più vulnerabili quindi c'è una vulnerabilità geografica che fa sì che gli impatti diretti del cambiamento climatico siano più sentiti più avvertiti e più drammatici nei paesi a basso reddito e poi ci sono gli impatti indiretti che sono in parte conseguenza dei precedenti per esempio un impoverimento della qualità dell'acqua una minore disponibilità di acqua potabile l'inquinamento atmosferico che viene aggravato dal cambiamento climatico ma ha in comune col cambiamento climatico alcune dei determinanti ma viene anche aggravato e provocato per esempio dagli incendi drammatico quel che è successo in Australia qualche anno fa per quanto riguarda appunto l'impatto degli incendi sulla qualità dell'aria per quanto riguarda l'impatto sulla salute un po' tutti i sistemi organici sono influenzati dal cambiamento climatico perché le ondate di calore provocano malattie cardiovascolari e morti per malattie cardiovascolari c'è un impatto a livello dei reni per esempio a causa delle modifiche nella quantità e nella qualità dell'acqua disponibile e anche a causa dell'aumento della temperatura e c'è un aumento del rischio di malattie infettive citerei anche la salute mentale perché le ondate di calore e gli eventi drammatici o traumatici legati agli allagamenti spesso con la perita dell'abitazione o dei propri beni hanno un evidente impatto sulla salute mentale per quanto riguarda le malattie infettive c'è un aumento progressivo delle malattie infettive emergenti questo era già stato notato da un articolo importante del 2018 mi sembra di Jones che no scusate 2008 che aveva già rilevato come ci fosse un aumento delle malattie infettive emergenti quindi delle epidemie che si verificavano aumento a partire dagli anni 40 50 ma con un'accelerazione dopo il 1980 e un po' tutte le malattie infettive sia quelle zoonotiche cioè trasmesse dagli animali per esempio gli animali dall'allevamento sia quelle trasmesse da vettori come le zanzare su questo la ricostruzione della rete causale riguarda sia il cambiamento climatico perché il cambiamento climatico implica una trasformazione dell'areale di distribuzione dei vettori per esempio per le zanzare pensiamo alla dengue o alla malaria sia anche il disboscamento e il cambiamento di destinazione dei terreni e sulla destra vedete che le malattie infettive zoonotiche sono legate alla progressiva occupazione di suolo dovuta sia all'attività agricola e alla produzione di cibo sia ad altre finalità utilizzazione del suolo per urbanizzazione allora accenno molto brevemente alle possibili soluzioni e poi vorrei invece dire qualcosa in più sulla vulnerabilità individuale e sulle disuguaglianze sociali allora non mi soffermo sul Green Deal voglio soltanto dire che il Green Deal è stato continua a essere spero un punto di riferimento essenziale e un insieme di normative che riguardano l'ambiente nel suo insieme non soltanto il cambiamento climatico ma anche la biodiversità anche l'uso di pesticidi in agricoltura e così via secondo me dovrebbe essere conosciuto o dovrebbe essere conosciuto molto di più studiato a scuola probabilmente e perché non solo è importante per affrontare la crisi climatica e ambientale ma perché ci propone una diversa visione di come può essere l'economia e di come l'economia può convivere con l'ambiente e anche con una visione giusta della società c'è anche questa componente di giustizia nell'ambito del Green Deal non dico altro salvo il fatto che sono preoccupato per un arretramento a cui assistiamo adesso sul Green Deal le dichiarazioni della von der Leyen sui pesticidi mi preoccupano perché non solo c'è una notevole lentezza da parte degli stati nel mettere in atto quello che prevede il Green Deal ma peraltro le stesse dichiarazioni di Parigi e le dichiarazioni che vengono rinnovate di anno in anno alle varie cop ma poi non si traducono in realtà infatti come ha già detto Marchetti e per di più questo arretramento fa seguito a proteste che vanno affrontate in modi diversi non cedendo sul terreno della difesa dell'ambiente ecco volevo invece soffermarmi di più sugli aspetti relativi alla salute e c'è un una sorta di slogan che viene usato da parecchi anni a questa parte a partire almeno dall'accordo di Parigi del 2015 che è quello dei co-benefici e cioè una serie di politiche intelligenti che potrebbero e dovrebbero essere intelligenti ci consente di evitare il disastro climatico sperabilmente ma anche di migliorare lo stato di salute delle persone questo è un esempio di una ricerca che abbiamo condotto noi all'Imperial College noi abbiamo nei primi anni 90 incluso in una ricerca 500.000 persone in Europa che sono state intervistate sulle loro abitudini di vita alimentari e così via e le abbiamo seguite poi per circa 25 anni identificando i casi di cancro la mortalità i casi di malattie cardiovascolari eccetera questa diapositiva fa vedere come lo stile di vita alimentare le abitudini alimentari da un lato influiscono sulla mortalità e dall'altro sulle emissioni di gas serra e noi abbiamo tradotto le informazioni alimentari di queste 500.000 persone di 10 paesi europei in una raccomandazione che si chiama dieta per l'antropocene o anche Eat Lancet che è stata proposta da una commissione appunto denominata Eat Lancet dalla rivista Lancet coordinata da un famoso nutrizionista di Harvard abbiamo trasformato le storie alimentari dei 500.000 soggetti in un indice di qualità dell'alimentazione dove a sinistra vedete una cattiva qualità dell'alimentazione che vuol dire tanta carne rossa alcolici molti grassi zuccheri sale tutto ciò che non si dovrebbe fare insomma e andando invece verso destra una buona qualità dell'alimentazione che è esattamente l'opposto cioè tanta frutta e verdura fibre e poco alcol poco zucchero allora la classificazione dei nostri soggetti in base alla dieta Eat Lancet intanto fa vedere che possiamo evitare un bel numero di morti questo è il numero di morti evitate dall'altro però abbiamo considerato le emissioni di gas serra e l'occupazione di suolo in rosso e in blu associate alla produzione di quei cibi allora passando da un consumo molto elevato di carne a un consumo molto basso di carne c'è una riduzione netta delle emissioni di gas serra e anche dell'occupazione di suolo la carne è la principale responsabile di questo però anche il latte sempre a causa dell'allevamento di bovini e alcuni altri alimenti dove invece gli alimenti che si trovano qui sulla destra come i legumi sono spesso virtuosi perché consumano poco suolo poca acqua sono nutrienti proteici e danno origine a poche emissioni di gas serra e poi sempre nell'ambito della stessa ricerca abbiamo trovato questo abbiamo fatto questa osservazione che devo dire ci ha sorpreso questa è una riclassificazione degli stili alimentari sempre di quelle 500.000 persone sulla base di un indice di biodiversità riguarda la biodiversità dei cibi ingeriti in pratica quante specie animali o vegetali ciascuno di noi mangia dove l'indice di biodiversità sarà minimo per persone che mangiano soltanto bistecche oppure che mangiano soltanto insalata mentre è massimo in questo quinto quintile che indica una grande varietà non alimentare in senso generico ma relativa alle specie ingerite vegetali e animali e come si vede c'è una relazione importante con la mortalità c'è un risparmio del 27% scusate 37% della mortalità in quelli che appartengono a quintile più alto di biodiversità questo è un altro esempio di co-benefici perché la scarsa biodiversità agricola sul pianeta è negativa da molti punti di vista l'ho già detto prima c'è una minore fornitura di servizi ecosistemici ci mette più a rischio anche perché se c'è una sola varietà di verdura questa può essere colpita da un parassita e creare una crisi alimentare rispetto a una grande varietà oltre a questo la biodiversità è anche protettiva nei confronti di alcune malattie adesso stiamo estendendo le analisi ai tumori e troviamo lo stesso tipo di associazione con i tumori del colon e via via le estenderemo ad altri tipi di patologie questo tema dei co-benefici come ho detto è stato già introdotto a COP21 nel 2015 probabilmente prima anche e ci dice che se noi attuiamo delle migliori pratiche in agricoltura per esempio riduciamo il consumo di carne e transitiamo verso altre modalità come una maggiore coltivazione di legumi per esempio otteniamo il doppio beneficio di mitigare il cambiamento climatico e migliorare la salute umana ma lo stesso vale per una serie di altri interventi non so tipico è la riduzione del traffico automobilistico e lo spostamento del traffico automobilistico verso i mezzi pubblici il fatto di camminare le biciclette eccetera perché questo riduce l'inquinamento riduce il mitico il cambiamento climatico riduce l'impatto degli inquinanti sulla salute umana aumenta la mobilità quindi l'attività fisica e quindi previene il diabete e l'obesità si possono fare tanti esempi ma questa politica di co-benefici a me e ad altri sostanzialmente tutti quelli che si occupano di questi argomenti all'interno del mondo accademico e non solo sembra che sia un'ottima modalità per politici che siano minimamente intelligenti cioè con un unico intervento sulla mobilità o sui consumi alimentari si ottengono benefici in diversi settori e passo adesso alle disuguaglianze sociali per vedere come tutto questo tutto quello che ho detto può impattare diversamente sulle su diversi individui a seconda della loro appartenenza sociale questo è un articolo fatto con l'agenzia internazionale per ricerche sul cancro sulla mortalità per cancro in Europa nei diversi paesi europei e secondo il grado di istruzione dove il pallino nero indica l'istruzione più bassa e il pallino bianco l'istruzione più alta è molto grossolano se volete però è anche molto eloquente perché fa vedere che le persone di classe sociale più bassa hanno sempre una mortalità più alta rispetto alle persone di classe sociale alta non solo ma fa anche vedere che le persone di classe sociale alta più o meno hanno lo stesso livello di mortalità ovunque risiedano mentre invece fa una grossa differenza per le persone di classe sociale bassa il fatto che risiedano diciamo nei paesi dell'est europeo rispetto agli altri paesi negli altri addirittura per la Spagna e per l'Italia non c'è differenza tra le classi sociali per le donne e questo richiederebbe di soffermarsi un po' più a lungo queste differenze sono interpretabili in vari modi per esempio nei paesi dell'est europeo c'è un problema legato agli screening che non vengono fatti c'è un problema ancora di molto utilizzo di sigarette la qualità dell'alimentazione tende ad essere più bassa e c'è un minore accesso alla diagnosi e alle terapie quello che riteniamo noi che ci occupiamo di epidemiologia delle disuguaglianze è che le disuguaglianze iniziano alla nascita o addirittura al concepimento e questo è un argomento su quale insistiamo molto che ha a che fare con la salute globale ha a che fare con la crisi ambientale perché quello che succede oggi per quanto riguarda per esempio la malnutrizione legata alla crisi climatica ha un impatto soprattutto sui bambini sui primi anni di vita oppure nella vita introterina e condiziona poi il resto della traiettoria di vita questa è una popolazione di neonati e madri qui adesso mi soffermo sui neonati seguiti più o meno dagli anni 50 ad oggi in Finlandia di nuovo sono state raccolte molte informazioni si vede che i bambini di classe sociale più alta in blu fin dalla nascita consumavano più frutta e verdura facevano più attività fisica quelli in blu e però iniziavano più tardi o iniziavano meno a fumare o non fumavano affatto rispetto a quelli di classe sociale bassa a un certo punto comparivano gli effetti sull'organismo sotto forma di aumento della massa corporea quindi obesità modificazioni metaboliche oppure di altri marcatori aumento della pressione arteriosa aumento dei trigliceridi con le persone di classe sociale bassa sempre in posizione peggiore rispetto a quelli di classe sociale alta e alla fine abbiamo osservato maggiore mortalità per diabete e per malattie cardiovascolari in quelli di classe sociale più bassa e per questo noi ci stiamo impegnando adesso in una ricerca che chiamiamo dalla biografia alla biologia perché studiamo l'impatto dei percorsi di vita in senso biografico che vogliono dire povertà ma anche minore capitale sociale minore capitale culturale e minore capitale biologico nel senso di cattivo uso dei servizi ecosistemici cattiva alimentazione alimentazione molto basata su prodotti industriali anziché frutte e verdure fresche eccetera eccetera noi pensiamo che come è stato detto il mondo sociale è storia accumulata noi pensiamo che la storia biologica di ciascuno e lo stato di salute di ciascuno è anche storia accumulata di quell'individuo di tutte le esperienze economiche sociali culturali e biologiche che ha avuto nel corso della sua vita questo è misurabile adesso lo facciamo con l'epigenetica cioè andiamo a studiare l'espressione dei geni del DNA attraverso modificazioni chimiche che non sto a raccontare ma sostanzialmente studiando queste modificazioni chimiche reversibili del DNA quindi non sono mutazioni abbiamo trovato un indicatore che è un indicatore dell'età biologica che è fortemente associato correlato con l'età cronologica però a livello individuale se ne differenzia quindi ciascuno di noi ha un'età biologica che indica lo stato di usura dei tessuti diciamo così che si può misurare con l'epigenetica cioè con modificazioni chimiche del DNA e questo indicatore può differire dall'età cronologica cioè possiamo avere un'accelerazione dell'età tant'è vero che si parla di orologio biologico questo orologio biologico funziona molto bene per esempio correla con la velocità del cammino che è uno dei principali preditori dello stato di salute più lentamente si cammina maggiore il rischio di morire precocemente e più è accelerata l'età secondo il nostro indicatore epigenetico oppure guardate soltanto questo green age che è il migliore degli indicatori che vengono usati adesso più rapido è il declino cognitivo misurato in questo modo è maggiore l'accelerazione dell'età la domanda che ci siamo posti a quel punto è ma c'è una relazione tra questa accelerazione epigenetica dell'età e la classe sociale allora siamo andati a studiare tre popolazioni in Italia Irlanda e Australia e la risposta è sì queste persone di classe sociale alta sono usate come standard e vedete che c'è un'accelerazione dell'età nelle persone di classe sociale intermedia e un'accelerazione ulteriore nella classe sociale inferiore e questo non è spiegato dai fattori comportamentali come il fumo l'alcol l'obesità il diabete l'ipertensione ma c'è un sovrappiù un'accelerazione dell'età ulteriore legata alla classe sociale cosa che poi abbiamo anche confermato in 16 popolazioni diverse questo blu è un pallino che si riferisce al più potente degli indicatori di accelerazione epigenetica dell'età e c'è un'accelerazione aumentata nelle persone di classe sociale media e ulteriormente aumentata in quelle di classe sociale bassa rispetto a quelle di classe sociale alta e questo indipendentemente dal ruolo degli altri fattori che sono il fumo che è un infatto molto importante l'obesità l'alcol e l'attività fisica quindi al di là di tutti questi fattori comportamentali c'è un ulteriore impatto della classe sociale e abbiamo quindi coniato questa quest'idea della scienza delle transizioni da sociale al biologico ma non mi soffermo ciascuno di noi ha un capitale biologico ereditato dai genitori che poi viene via via modificato nel corso della vita grazie al capitale economico sociale e culturale che abbiamo che condizionano le nostre esposizioni quanto bene mangiamo ma anche quanto siamo esposti all'ondate di calore perché per esempio non abbiamo il condizionamento d'aria in casa quindi tutto questo è un indicatore sintetico di vulnerabilità che conduce poi a maggiori o minori probabilità di ammalarsi e c'è un concetto poi finisco che è stato coniato in relazione ultimamente è stato applicato al covid-19 ma era stato coniato in relazione all'AIDS che è quello di sindemia la sindemia vuol dire che in una certa popolazione e anche in un certo individuo compaiono più facilmente diverse malattie associate fra di loro quindi certe malattie compaiono in aggregati in grappoli ci sono dei percorsi molecolari comuni tra queste malattie e la probabilità di avere più malattie la cosetta comorbidità è legata alle disuguaglianze sociali questo è stato visto nel caso del covid perché la mortalità maggiore specialmente devo dire in Inghilterra negli Stati Uniti meno in Italia era nelle classi sociali più basse perché in parte perché c'era una maggiore esposizione a rischio per motivi professionali già quando la pandemia è emersa in Cina ma c'è anche una maggiore frequenza di fattori di rischio per la comorbidità come l'obesità e l'ipertensione nelle classi sociali più basse poi c'è un maggior affollamento nelle case c'è una maggiore mobilità per motivi professionali un minore accesso ai servizi compresi quelli sanitari e poi un effetto accumulativo nel corso della vita cioè molte di queste differenze che aumentano la vulnerabilità individuale iniziano nell'infanzia per questo prima sottolineavo l'importanza della vita introtterina e dell'infanzia e volevo far vedere queste poche diapositive ma forse non c'è più tempo faccio vedere solo questa che c'è anche una crisi del capitale sociale nel mondo questo è un articolo di un mio amico Peter Munich che ha messo su un grafico quello che è successo sulla base di una serie di rilevazioni sociologiche negli Stati Uniti e in parte in Australia e fondamentalmente c'è un declino in alcuni indicatori interessanti come la fiducia fiducia negli altri oppure lo standard di vita rispetto ai propri genitori oppure la felicità percepita addirittura la frequenza dei rapporti sessuali quindi è un aspetto che non dobbiamo sottovalutare perché noi tendiamo sempre a pensare ai rischi chimici fisici e così via ma questi problemi vanno insieme e il declino del capitale sociale costituisce anche una forma di vulnerabilità scusate ma voglio far vedere anche questa perché c'è molta enfasi come sappiamo sulla sicurezza bene io vorrei che tutti sapessero che l'Italia è uno dei paesi più sicuri al mondo questo misurato con il tasso di omicidi poi ci sono altri indicatori questo qui questo grafico disastroso è la Russia poi ci sono gli Stati Uniti come sappiamo e poi i paesi europei che sono molto prossimi fra di loro ma l'Italia è quella che si comporta meglio come tassi di omicidi quindi questo è diciamo la parte emergente dell'iceberg poi ci sono tanti altri indicatori di sicurezza ma l'enfasi sulla sicurezza è sproporzionata soprattutto se la confrontiamo sul piano politico con l'enfasi sul cambiamento climatico e la crisi ambientale mi fermo qui potrei andare avanti a lungo grazie grazie anche a Paolo Vinis per questo suo intervento molto molto interessante che apre come dire una finestra quella che è un tema emergente ma su quale forse abbiamo ricordato poco quello della giustizia ambientale dove magari è più assolutamente legato al tema delle migrazioni e invece o alcuni temi specifici invece come dire anche grazie alla riflessione che ci ha proposto il professor Vinis vediamo come sia un tema di giustizia ambientale che interpreta come quale interpretare il complesso rapporto problematico tra ambiente e salute e verso cui necessario indirizzare con forza le azioni di prevenzione questo è veramente estremamente interessante questi dati che ci ha portato mi farei che le due relazioni che abbiamo avuto ci hanno veramente aiutato a riconoscere se questo era un po' l'obiettivo di questo incontro queste connessioni strettissime che ci sono tra la vulnerabilità delle nostre società e la vulnerabilità del sistema naturali questo è veramente un elemento sul quale purtroppo come ci ricordava anche adesso alla fine ma anche ciò ricordava Marco all'inizio non c'è assolutamente attenzione da parte della politica ma direi che non c'è neanche attenzione nella società in generale insomma c'è veramente scarsa consapevolezza di queste connessioni e di come la crisi socioambientale climatica sia veramente una crisi di grandi proporzioni una crisi strutturale a cui dobbiamo cercare di porre delle risposte altrettanto strutturali che richiedono però anche un cambiamento che fosse è un cambiamento culturale ma ancora che fosse politico ed economico nella chat io ho visto prima una domanda adesso non so se ne sia arrivata un'altra e la domanda era un po' la prima io la farei a entrambi i datori insomma era un po' se è possibile pensare alla sostenibilità nell'ambito del mello capitalistico spinto della finanzializzazione cioè in questo sistema economico socio-economico insomma è possibile praticare e realizzare la sostenibilità questa è una domanda sulla quale non so se volete dirci qualcosa poi ce n'è un'altra che adesso vedo se riesco è più un commento però che vi posso leggere faccio parte di un gruppo energia per l'Italia coordinato dal professor Balzani e quindi condivido largamente quanto detto non si parla mai invece dell'impatto demografico in Bangladesh la densità di popolazione è sei volte quella dell'Italia siamo tutti preoccupati dell'esposizione demografica dell'Africa sarebbe interessato di discutere anche come possono essere possibili mitigare il problema climatico e la vulnerabilità in un pianeta terra che raggiungerà forse i dieci miliardi di abitanti in questo secolo ecco che questo è il tema demografico come dire un altro tema che da noi è l'inverno demografico quindi come dire si pone in una certa prospettiva invece dei paesi asiatici in particolare penso appunto il Bangladesh ma anche l'India insomma e l'Africa si pone in maniera diversa se ci sono un paio di rispondi se su questi magari Marco e poi Paolo vogliono dare un loro commento una loro riflessione anche eventualmente in interazione anche Marco rispetto alle soluzioni che ci ha dato Paolo Vini rispetto a queste questioni se sollecitano tu da ecologo insomma alcune riflessioni ulteriori certo grazie grazie delle domande dei commenti grazie a Paolo Vini per la bellissima relazione mi ha colpito molto tra le tante legato a questo tema il tema il declino del capitale sociale che forse è ovviamente collegabile anche al tema demografico da noi forse la crisi è legata anche all'invecchiamento all'inverno demografico è vero che tanti bambini non nascono in giro qui nel mondo con le prospettive dei nostri figli e dei nostri nipoti dal punto di vista della tranquillità e del benessere primario però credo anche che questo tema ovviamente non me ne intendo non sono assolutamente esperto di demografia sia un tema difficile da coniugare con il resto con le altre due clisi ma che non possiamo dimenticare che è legato secondo me e dai dati che abbiamo visto soprattutto alle ingiustizie faccio l'esempio che mi è più vicino il tema della produzione alimentare noi sappiamo benissimo che non abbiamo alcun problema con l'avanzamento tecnologico attuale nelle condizioni ecologiche attuali a produrre cibo per 10 miliardi di abitanti sul pianeta il vero dramma è l'accesso al cibo e l'accesso al cibo sappiamo che il 30% della produzione alimentare 30% medio mondiale è sprecato dal campo alla tavola 50% nei paesi ricchi e che il vero problema per tantissima parte della popolazione ripeto è l'accesso al cibo dal 2018 si è invertita la curva della diminuzione delle persone sottoalimentate non malnutrite sottoalimentate perché nei malnutriti ci sono invece tutti gli obesi che mangiano male nei paesi più ricchi anche lì nelle classi più poveri ma tra i sottoalimentati abbiamo visto cominciare a ricrescere e stiamo arrivando di nuovo intorno al miliardo da quello che dice World Food Program della FAO delle Nazioni Unite però ripeto il vero problema è l'accesso al cibo il tipo di produzioni se pensiamo ai paesi che abbiamo nominato il tema dell'accaparramento della terra perché in Africa le comunità locali vendono per manciate di spiccioli le proprie proprietà collettive su cui gli usi consuetudinari consentono l'alimentazione primaria a chi invece trasforma la terra in aziende per culture da esportazione ad alto reddito e non sono fenomeni che riguardano 1, 2, 10, 100 ettari sono fenomeni che riguardano migliaia di ettari di nuovo nell'immensa contraddizione tra chi è ricco e prende e che vorrei dire rapina un approccio neocoloniale anche sul cibo e chi invece svende e poi costretto magari a inurbarsi o a tentare di migrare allo stesso modo e con minor successo delle foche che portano il cimurro alle lontre altra cosa che mi ha mi è piaciuta della relazione delle rapporti delle interconnessioni questo sul primo tema il secondo è legato la finanziarizzazione io credo sia uno dei mali più grossi del turbo capitalismo del pensiero unico che adesso ci costringe a ragionare non più come economia di mercato ma come società di mercato in cui monetizziamo tutto e se pensiamo che il cibo è diventato da tempo commodity invece che essere common bene comune uno dei beni comuni come il resto non possiamo altro che pensare che questo sia un altro dei fenomeni che non sono epifenomeni sono fenomeni profondi su cui qualcuno ha in mano le leve per decidere se speculare anche sul frumento sul riso sul caffè che magari sappiamo volutuario o su beni ancora più esistenziali oppure se approfittare della congiuntura per consentire invece di allargare le maglie della produzione prima del 2018 effettivamente quando stava diminuendo la morte per fame quando diminuivano i morti per fame c'era stato un momento anche interessante di attenzione per esempio ad alcune riforme agrarie in giro per il mondo cosa di cui adesso abbiamo sentiamo neanche sentiamo il contrario pensate a quello che sta succedendo in Sud America oppure allo spostamento verso le autocrazie o i regimi militari in tanta parte dell'Africa che automaticamente in genere corrispondono alla privatizzazione di terre pubbliche o terre collettive e quindi alla privatizzazione della produzione di cibo e lo dico solo rispetto alle cose di cui mi intendo un po' di più consiglio da questo punto di vista quel bellissimo volume annuale report che produce la Foxiv sull'accaparamento delle terre e che ragiona bene su questi fenomeni per quanto concerne sia gli aspetti ecologici che agroalimentari spero di essere stato utile in questi commenti grazie Marco mentre Paolo risponde vuoi dire nella cia c'è una domanda che qua riguarda proprio il fiume Isernia e nel Molise che forse è una realtà che tu conosci visto che hai lavorato lì per molto tempo devo dare un'occhiata se tu chiedeva un po' rispetto a una mala gestione ecco della prego Paolo sì mi sembra che Marchetti abbia già risposto benissimo ne faccio solo un paio di commenti il primo riguarda il Bangladesh perché si dà il caso che sia un paese che io conosco e è vero che c'è un'altissima densità di popolazione però è anche un paese che ha fatto molti passi avanti per esempio per quanto riguarda il tasso di natalità e gli aspetti demografici è uno dei paesi che hanno fatto più passi avanti per quanto riguarda gli SDG in particolare l'SDG sulla povertà e sui cambiamenti demografici quindi diciamo il mondo non è in bianco e nero ma ci sono c'è una diversificazione a seconda delle aree che è interessante alcuni paesi possono essere presi a modello l'altro commento riguarda il sì sempre la crisi demografica mi pare che uno degli aspetti decisivi sia la scolarizzazione e l'istruzione specialmente delle donne e mi sarebbe investire moltissimo in questo perché ci sono buone prove del fatto che l'aumento del livello di istruzione e la scolarizzazione preludono poi anche a un controllo della crescita demografica nei paesi in cui il problema è stato indagato la domanda sul capitalismo io non so cosa rispondere mi sembra che a me abbiamo ben pochi modelli alternativi quindi si tratta probabilmente di pensare a delle delle mitigazioni degli aspetti deteriori dell'attuale capitalismo quello che mi preoccupa c'è un'espressione molto bella usata da Telmo Pievani e altri che è questa cioè l'uomo è l'unica specie che ha fatto dell'intero pianeta la sua nicchia evolutiva cioè noi abbiamo trasformato l'intero pianeta nella nostra nicchia evolutiva mentre i castori hanno la loro nicchia evolutiva che però non ha una molto circoscritta a livello di territorio che non ha un impatto sul resto del pianeta mi sembra che un'ulteriore evoluzione o involuzione di questo problema sia il sistema dell'informazione che include anche l'educazione e l'istruzione io sono direttore di una rivista di sanità pubblica e sto assistendo ad una tragedia che è stata anche descritta sui giornali c'era un grosso articolo qualche giorno fa sul Guardian c'è la caduta verticale di qualità delle pubblicazioni scientifiche perché anche quello è diventato un gigantesco mercato c'è il problema della mercantilizzazione anche della produzione scientifica aggravato dall'intelligenza artificiale ci sono ormai tanti che non solo copiano incollano per sottoporre articoli scientifici ma utilizzano chat GPT per scriverli allora in tutto questo io vedo tanti rischi che sono l'impoverimento culturale ma anche il fatto che non è più identificabile non sono più identificabili centri di pensiero in cui si elaborano idee che poi vengono dibattute e danno indicazioni e suggerimenti politici c'è un bombardamento di informazioni o di nozioni che non si trasformano in idee e in proposte in fatti e peraltro abbiamo sempre accusato la politica di short termism e quello che succede in questi giorni lo lo dimostra cioè la reazione della politica è quella di rivedere la legge sui pesticidi perché gli agricoltori protestano quindi dello short termism fa parte anche il sistema dell'informazione che a mio avviso sta degenerando e questo fa parte di una degenerazione del capitalismo finanziario grazie Marco hai visto poi quella questione grazie grazie Paolo perché ha detto delle cose anche molto molto interessanti che condivido pienamente anche queste ultime sull'infotemia che non trascura neanche le contorsioni e le contraddizioni della produzione delle produzione scientifica prima per il proliferare della bibliometria chi più produce e maggiori indici ha prima fa carriera per cui ci sono giovani che perdono di vista l'insieme dei problemi e si focalizzano sulla iperspecializzazione per poter produrre e poi il falso e le truffe che ovviamente sono dappertutto anche qui il tema è poi gli strumenti rispetto agli obiettivi abbiamo strumenti che possono essere usati bene strumenti che possono invece diventare fonte di disastri come del resto il denaro in partenza se devo rispondere invece all'interessante stimolo della Teresa Brillante di Trivento grazie è un caso importante è stato citato adesso l'esempio dei castori come nicchia evolutiva forse sapete o forse non sapete il castoro è stato risegnalato dopo forse due secoli nelle Alpi orientali in Friuli in Slovenia assieme allo sciacallo dorato che invece dall'est è arrivato a proposito di immigrazione di animali in pianura padana il caso del Pantano del Carpino che è un piccolo bellissimo una pellicola bellissima zona umida di Fondovalle vicino Trivento sul Trigno sul fiume Trigno è molto interessante per rispetto al tema dei conflitti per la terra che vi dicevo all'inizio come minaccia primaria per la biodiversità certo se il piano di gestione fosse stato fatto in modo diverso capisco bene che le piccole aziende agricole non avrebbero subito la perturbazione il disturbo dovuto all'allagamento cosa che per esempio i castori fanno naturalmente e che questi alberi di pioppo caduti invece lasciati lì possono provocare in caso di alluvioni e di ondate di piena lì bisogna decidere alcuni pezzi di territorio è bene lasciarli all'evoluzione naturale anche sopportando l'allagamento perché l'allagamento non arrivi magari nelle case e indenizzare i proprietari anche se la risposta ovviamente è molto superficiale e veloce ma per raccontare di come il tema piccolo che viene presentato dal punto di vista geografico quasi microscopico è molto significativo sotto profilo generale dei conflitti tra biodiversità e presenza dell'uomo e produzione dell'uomo io non sono assolutamente per la segregazione il land sparing cioè la divisione della terra del mondo in aree da proteggere da cui l'uomo deve uscire e in aree invece in cui l'uomo può fare quello che vuole io sarei per il land sharing cioè la condivisione degli spazi su cui il nostro paese fin dal rinascimento quando si è inventato le nuove forme di città e di buon governo pensate all'Ambrogio Lorenzetti a Siena con l'allegoria del buon governo ha costruito un mosaico anche paesistico di eterogeneità ambientale in cui convivevano produzione insediamento e natura è questo che invece oggi stiamo più o meno perdendo anche noi polarizzandoci schizofrenicamente tra consumo di suolo cementificazione dei fondi valle delle pianure delle coste e abbandono degli spazi rurali delle colline e delle montagne benvenga se Pantano del Carpino qualcuno riuscirà a rimodificare un piano di gestione del sito di importanza comunitaria dell'area protetta pensando soprattutto alle piccole aziende di produttori che sarebbe un delitto perdere tanto quanto i valori naturalistici dell'area protetta spero di avere risposto grazie grazie Marco sempre in chat c'è stata un'ultima considerazione che riguarda forse anche la riflessione che ha fatto Marco prima sulla questione dello spreco di cibo dice lo spreco alimentare viene generalmente visto come uno spreco economico bisogna trovare il modo di farlo diventare uno spreco di terreno di quelle ponte ecologiche di grande effetto sul clima in questo sito il problema è la politica ovviamente credo che su questo siamo d'accordo allora su questo mi aggancio per rilanciarvi così una richiesta non so se è un tema su cui avete avuto avete dei dati delle riflessioni da fare entrambi scusa Matteo su questo è importantissimo scusa l'interruzione ma su questo su questa domanda di Giulio Marchesini l'esempio che faceva vedere Paolo dei co-benefici tra dieta e cibo e effetto serra diciamo è significativo importantissimo ripeto il dato è incredibile ma il 30% del nostro cibo viene sprecato dal campo alla tavola a livello mondiale pensate quanti gas serra in meno produrrebbe l'agricoltura se il sistema agroalimentare fosse più efficiente scusami la questione era questa ma viviamo in un sistema in cui probabilmente la leva economica è la leva che potrebbe favorire e accelerare il cambiamento perché qua si ragiona nel sistema in cui siamo soprattutto a un punto di vista dell'impatto economico allora ci sono studi ci sono approfondimenti ci sono dati che si possono aiutare a comprendere qual è l'impatto economico penso per Marco Marchetti della beta di biodiversità e della beta dei servizi ecosistemici leggevo un rapporto Unione Europea che dice che solo il valore economico degli impollinatori per l'Europa vale 5 miliardi di euro sono dati come dire che hanno un'elevanza che penso se lo amplifichiamo agli altri servizi ecosistemici potremmo avere dei dati che si possono aiutare a far capire alla politica e all'economia delle persone che la salvaguardia la prevenzione è un elemento fondamentale per lo sviluppo economico di oggi e di domani e lo stesso poi inversamente chiederei a Paolo se abbiamo una serie di valori che ci dicono quanto costa il sistema socio-sanitario le malattie come conseguenza dell'inquinamento i dati anche qui dell'Unione Europea sono dati molto molto importanti insomma adesso non so se sia corretto ma l'Agenzia Europea per l'Ambiente qualche anno fa parlava di circa 350 mila persone che muoiono come conseguenza in Europa all'anno come conseguenza dell'impatto dell'inquinamento polveri sottili e c'è chi dice sui 60 mila forse un po' meno per l'Italia tutto questo ha un riscontro in quanto riguarda sul costi ovviamente per il sistema sanitario ecco questo sono dati che ci abbiamo sono dati che non vengono di ruota ecco a Marco e a Paolo se hanno qualcosa su questo Marco tu che sei in questo momento sì è una traccia da seguire è una traccia da seguire Robert Costanza su Science già nel 2017 propose il valore globale dei servizi ecosistemici di regolazione in migliaia di miliardi di dollari cifre che poi lasciano un po' anche il tempo che trovano e questo è un po' il limite diversa è la monetizzazione del valore dei servizi ecosistemici quando questi diventano possibili pagamenti per i servizi ecosistemici un esempio tra tutti diverse municipalizzate anche nel nostro paese hanno comunicato a inserire in tariffa cioè nella bolletta degli utenti ma che magari non ne sono neanche consapevoli il valore della gestione del territorio nei bacini di alimentazione della propria risorsa idrica quello è un pagamento importante che viene monetizzato e quantificato e quindi monetizzato a livello locale con un'accuratezza e un'attenzione legata ai costi che si sostengono e quindi ha un alto valore dal punto di vista anche politico-economico socio-economico la politica dovrebbe prenderne atto rispetto a tante funzioni di regolazione pensiamo adesso faccio una provocazione pensate al gigantesco problema dell'acciaio nel nostro paese discutiamo moltissimo sulla decarbonizzazione della produzione di acciaio discutiamo poco sulle potenzialità di sostituire con altri materiali l'acciaio che sappiamo essere hard to abate uno dei materiali a maggiore impronta carbonica ed energetica che esiste nel mondo invece risorse naturali rinnovabili dico una stupidaggine ma non è una stupidaggine se no non mi permetterei di dirla stanno dimostrando che il legno può essere una risorsa rinnovabile con grandissime capacità di sostituire anche strutture in acciaio esempio tra tutti nel campo delle energie rinnovabili in Svezia stanno cominciando ad installare torri eoliche quindi alte 150-200 metri fatte totalmente in legno ricostituito quindi non tronchi ma pezzetti di legno incollati e ricostituiti con efficienza e sicurezze maggiori dell'acciaio è una stupidaggine ma per dirvi che monetizzare il valore della natura è rischiosissimo sotto profilo etico e questo è un altro punto che dovremmo cercare di ricordare quando parliamo di valore economico però è fondamentale per riuscire a stabilire quei valori economici totali che diano la proporzione del mercato rispetto invece al benessere e all'efficienza funzionale dei sistemi ecologici spero di essere stato chiaro Paolo grazie Marco sì io cerco di rispondere alla domanda sull'impatto anche economico diciamo della prevenzione quelle stime sono corrette probabilmente sono anche sottostime centinaia di migliaia di morti e di patologie legate all'inquinamento in Europa diciamo che sono stime imprecise perché mentre è facile studiare certi determinanti comportamentali della salute come il fumo di tabacco studiare gli inquinanti ambientali che sono 350.000 sostanze chimiche presenti nell'ambiente richiede strumentazioni sempre più sofisticate non si possono soltanto intervistare le persone per chiedere se fumano o non fumano non si può chiedere alla gente se è esposta a PCB o a aftalati quindi le richieste le ricerche epidemiologiche sono complesse e questo sta alla base del fatto che probabilmente sottostimiamo l'impatto dell'ambiente sulla salute detto questo però non dobbiamo neanche sovrastimare la possibile il possibile risparmio per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale perché perché il i determinanti della salute e anche della spesa sanitaria sono molti ricordiamo che il grosso della spesa sanitaria avviene nell'ultimo anno di vita quindi il il fatto di posticipare la morte sul piano ovviamente della del benessere individuale sul piano sociale è molto positivo ma sul piano economico non lo è necessariamente questa è una prima considerazione poi stanno succedendo delle cose che ancora non capiamo spesso quello che avviene negli Stati Uniti si trasferisce poi all'Inghilterra e poi agli altri paesi sviluppati negli Stati Uniti come sapete da alcuni anni a questa parte c'è un declino della speranza di vita dell'attesa di vita le persone vivono meno lungo che è un evento di dimensioni colossali ancora solo parzialmente esplorato legato alla crisi degli opioidi ma non soltanto c'è il premio Nobel Deaton che l'ha studiato ha scritto diversi articoli anche alcuni libri molto belli si comincia a vedere in Inghilterra questo è molto differenziato per classi sociali ed è un miscuglio di diciamo eventi tossici traumatici abuso di droghe gli opioidi l'uso di armi da fuoco negli Stati Uniti l'effetto della povertà e in più anche l'effetto della crisi ambientale e separare queste diverse cose è molto difficile ma non dimentichiamo però che in Europa a differenza che negli Stati Uniti intanto l'attesa di vita è sempre aumentata in Italia è una delle più alte del mondo anche la qualità dell'ambiente è comunque migliore in Europa rispetto agli Stati Uniti e questo grazie al fatto che abbiamo avuto in qualche modo continuiamo ad avere e lo dobbiamo difendere un welfare state che non è soltanto il servizio sanitario ma è anche la difesa dell'ambiente per esempio il REACH e le altre leggi ambientali quindi è vero che la crisi ambientale ha un impatto sulla salute quantificare questo impatto sul piano economico è difficile e i determinanti della crisi del servizio sanitario che è universale sono tanti e sono forse prima ancora che ambientali sociali legati alle disuguaglianze sociali e poi c'è un argomento enorme che è quello dell'inappropriatezza dell'offerta di servizi sanitari e l'inappropriatezza nell'uso del servizio sanitario detto con uno slogan viene fornito troppo ai più ricchi e troppo pochi più poveri questo è è legato alle disuguaglianze sociali ma anche all'inappropriatezza il fatto c'è che non ci mettiamo d'accordo all'interno del servizio sanitario su quali sono le prestazioni realmente necessarie e indispensabili da fornire a tutti il fatto che gli Stati Uniti spendano il 20% del PIL per la spesa sanitaria è legato largamente all'inappropriatezza se poi consideriamo che gli Stati Uniti hanno un'attesa di vita molto inferiore a quella europea quindi c'è c'è un abuso di spesa che viene effettuata soprattutto dai ricchi e invece una grave carenza di fornitura di assistenza sanitaria ai più poveri problema che è clamoroso negli Stati Uniti si comincia a vedere in Inghilterra e diciamo se non prendiamo i provvedimenti si vedrà anche nel resto d'Europa grazie grazie anche per queste ulteriori riflessioni che ci aiutano un po' anche a contestualizzare a comprendere le complicità delle situazioni in cui qui siamo insomma e io direi che se non ci sono altre domande in chat credo che ci portiamo a casa veramente una bella ricchezza di contenuti e di informazioni che prima di tutto per il nostro percorso di ricerca ci aiuteranno poi anche nel proseguo delle attività quindi grazie a Marco Marchetti e grazie anche a Paolo Vines per questo loro contributo mi limito semplicemente a ricordare ai partecipanti e a chi vorrà poi che il prossimo 22 febbraio inizia il secondo ciclo di approfondimenti che è legato al tema vulnerabilità e responsabilità e saranno 22 febbraio 7 marzo 21 marzo ancora con la declinazione il primo webinar sarà sul fronte più che altro della riflessione fondamentale vulnerabilità e responsabilità nella prospettiva etica e teologica poi avremo invece la riflessione pubblicata del bioetico quindi la vulnerabilità dei soggetti coinvolti in relazioni di cura e poi il terzo webinar tocca i temi ambientali e vulnerabilità e resilienza trasformativa sempre di giovedì sempre di 7.30 per cui vi do appuntamento per il 22 febbraio per il prossimo appuntamento vi ringrazio ringrazio di nuovo Paolo Vines e Marco Marchetti ringrazio a tutti voi di stare rimasti con noi avete saluto questo seminario e vi saluto e vi auguro buona serata grazie grazie a voi